Fiora! Tutto ok? Sembra quanto stanca. Non dovrebbe riposarsi? Grazie, davvero, sto bene. No, troveremo un posto sicuro dove riposare. Non ci siamo quasi mai fermati da quando abbiamo lasciato il villaggio. Ricky pure, stanco! Pancino di Ricky pronto là! Avete ragione. È ora di posare le armi. Tutti giù! Un assalto Mekan! Riuscite a vederli? Un'altra visione. Bella, Shulk. No, non lo era. Shulk? Bravi, mi siete sfuggiti. Cos'altro aspettarsi dal portatore della Monale? Quella voce! Un Mekan con il volto. C'è sicuramente qualcuno dentro. Cosa facciamo, Shulk? Combattiamo. Ma non uccidetelo. Sapevo che l'avresti detto. No. 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 No.